Eccoci qua, abbiamo finito la prima seduta, cos'è stata la prima seduta? Una solita sbandierata di buone intenzioni, progetti, tutto ciò che è stato fatto di fantastico per la Toscana e ancora deve essere fatto, naturalmente tutto ciò che il partito di mantenanza chiede e vedremo se ci sarà anche ascolto per le minoranze e per le istanze che le minoranze portano. Per il momento tutto come al solito. E' stata un'altra esibizione del nostro Presidente Rossi che ha elencato una serie di interventi portandone sempre come fa lui gli aspetti magnificenti di queste sue opere della regione, non ne sono ancora convinto e la Commissione sicuramente mi aiuterà in questo ad approfondire questi miei dubbi, questi dubbi del nostro gruppo consigliare. Io gli faccio vedere la sala dove abbiamo fatto una sala molto portata, ma di solito le Commissioni sono fatte così, ci riuniamo qua intorno, noi oggi non abbiamo fatto, non siamo intervenuti perché faremo subito degli atti concreti, richiederemo immediatamente che la Commissione vada in visita alla regione francese di Nord-Pas de Calais dove lì hanno attuato la terza rivoluzione industriale, chiederemo in audizione che venga Angelo Consoli del Cetri, cercheremo contatti con Elon Musk per fare in modo che faccia rete anche con la Piaggio, con la Grinte che è complea, un sito Scana Spazio, chiederemo un tavolo istituzionale al Ministero per fare in modo che si sblocchi il problema dei siti di inquinamento nazionale e regionale, vorremmo prendere contatti con Fire e con l'Enea, la Federazione di Usulazione dell'Energia perché lì è uno degli anelli per riprendersi, cercheremo e porteremo un Commissione delle migliori pratiche per il turismo, abbiamo i contatti con diversi imprenditori della nautica e saremo qua solo per portare buone proposte.